ok buongiorno ortolani allora stamattina un po di pulizia in mezzo qua ai pomodori sorpresina è dovuto estirpare una pianta di pomodoro anzi due ma non riuscivo a capire come mai aveva questo problema problema è un formicaio allora formicaio adesso ho messo un po di fondi di caffè mi sono portato dal ristorante ne avevo ancora un po lì perché li allontanano e lontano adesso poi ci spruzziamo anche un po di di aceto aceto e acqua che allora da molto fastidio e poi rimettiamo un'altra piantina di quelle ci siamo procurati con la solita scacchiatura adesso vediamo un po se se il tutto va bene ho disinfettato le piante con color tica buongiorno a tutti